bilancio buono dai perché alla fine abbiamo fatto un po un miracolo sportivo tutte le situazioni che ci sono state sia in campo che fuori il bilancio può essere solo che positivo però come sempre tifosi un grazia va sempre a loro infatti quando con il risultato vado sempre sotto da loro quando posso ovviamente quando faccio gol perché se lo meritano perché se non ci fossero stati loro questa roba qua non poteva non poteva capitare sicuramente da tifosi quest'anno hai vestito la casacca della squadra del savona che effetto ti ha fatto ti chiedo e poi nel prossimo anno quali quali programmi se ci hai già pensato come sempre indossare la maglia del savona è un privilegio se lo sappiamo tutti e per il prossimo anno adesso vediamo un po parleremo un po scusa ci avete messo un po a uscire dallo spogliatoio si sentono ancora urla cori e il sintomo di un gruppo di uno spogliatoio che insieme è stato davvero bene che poi è stata diciamo conti fatti l'unico carburante che vi ha permesso di arrivare a fine stagione in questa maniera quello sì siamo contenti anche ragazzi nello spogliatoio stavano parlando erano molto contenti anche se non ci giocavamo niente adesso però molto contenti e ne approfitto per fare un bocca al lupo a stefano a caretta che speriamo poi che stia bene e vedremo poi è così è così mister lo ha detto che la grande coesione è stata sicuramente fondamentale quest'anno e per quanto riguarda il prossimo assi augurato che rimaniate quella come maggior parte del gruppo insieme vedremo vedremo cosa cosa ci sarà da fare adesso poi col mister parleremo forse faremo ancora una partita se non sbaglio una partita di beneficenza poi però parleremo insieme con tutti i ragazzi col mister e una cosa fa grazie